prego buon lavoro bene grazie allora do il benvenuto a tutti e il ben ritrovati a questo ciclo dei miti senza tempo e soprattutto un saluto e un grazie di cuore al professor curi che ritorna con noi l'anno scorso aveva partecipato al prima la prima edizione di miti senza tempo con due bellissimi incontri uno su pro sul mito di prometeo uno sul mito di edippo che tra l'altro sono per chi volesse ascoltabili sul nostro si sul sito della su youtube della libera università crostolo ecco quest'anno invece il professor curi conclude la prima parte del secondo ciclo dei miti senza tempo con il mito di alcesti poi ritornerà in primavera ritorneremo in primavera con l'ultima parte la seconda di questa seconda edizione che speriamo di poter fare in presenza e che sarà dedicata ai miti d'amore ecco il mito d'alcesti parla di amore di amore coniugale ma parla anche di morte il titolo che ha dato il professor curi a questa lezione che sentiremo fra un po e per non vedere più che quel sorriso amore morte nel mito di alcesti dove la prima parte del titolo è proprio una c è una citazione dalla lirica che rilke ha dedicato ad alcesti perché i grandi miti e anche il mito di alcesti lo è hanno attraversato i secoli e sono giunti fino a noi riletti riscritti raffigurati da artisti scrittori poeti ripensati e riconsiderati da dei filosofi e oggi ascolteremo il professor curi in questa sua lezione per il professor curi e diciamo l'attenzione e ai alla grande al grande repertorio della mitologia greco greco romana così come alla grande drammaturgia greca è proprio un diciamo un riferimento costante del suo lavoro e della sua riflessione teoretica che poi si è estesa anche ai miti moderni per esempio il mito di don giovanni si è estesa addirittura a dei a delle opere cinematografiche perché il professor curi è un appassionato cultore di cinema e ha dedicato il suo lavoro di filosofo anche al cinema uno dei titoli è proprio il filosofo al cinema ecco nella sua produzione più recente che è una produzione importante e anche molto corposa perché autore di una quarantina di titoli che sono stati pubblicati e tradotti anche in altre lingue nella sua produzione più recente la sua si è concentrato molto sui temi fondanti della riflessione filosofica la morte l'amore il dolore la guerra lo straniero che sono tanti titoli apparsi in questi ultimi anni di grande di grande importanza ecco io gli lascerei la parola e alla fine voi potrete utilizzare la chat della di questa piattaforma per potergli fare delle domande non so se sarà il professor curi a leggere direttamente le domande o lo posso fare io o il professor zambelli che mi e con e con me in questa presentazione ecco vi ricordo ricordo a tutti che sono aperte anche le iscrizioni al 2021 della look e quindi aspettiamo di poter replicare i numeri importanti degli altri anni anche se quest'anno queste modalità ci hanno le modalità online ci hanno un po penalizzato ma speriamo di potere in realtà ci seguono lo stesso in tanti e speriamo in primavera di poter tornare in presenza davvero con tutti ecco io lascio mi tolgo dallo schermo e lascio la parola al professore ringraziandolo ancora di essere con noi grazie mille bene buonasera ben trovate ben trovati tutti io ringrazio molto susi davoli delle cordiali parole di benvenuto e di presentazione devo dire che torno con piacere a dialogare con le persone che seguono all'attività della libera università crostolo perché ho avuto esperienza di contatti interessanti e significativi in maniera particolare di una partecipazione molto sentita molto attenta che è indizio io credo di una consapevolezza largamente diffusa quella cioè secondo la quale la cultura non è una mera decorazione non è un ornamento ma anche in periodi così difficili e dolorosi come quello che stiamo attraversando può e deve esserci compagna e poi deve essere di aiuto per tutti noi questa sera tra l'altro affronteremo alcuni temi che sono sia pure indirettamente connessi anche con la strettissima attualità ma io mi auguro che attraverso le vostre domande le vostre osservazioni i vostri commenti che seguiranno una mia introduzione non particolarmente lunga potremo cercare di mettere a fuoco alcuni problemi di particolare importanza allora il punto di riferimento da cui prendiamo le mosse nel percorso che svolgeremo questa sera è una figura femminile la figura di una giovane donna chiamata al cesti come è noto col nome di alcesti viene tramandata già nei vari cataloghi antichi la più antica tragedia di euripide che ci sia pervenuta rappresentata per la prima volta al concorso drammatico della 438 avanti cristo concorso per il quale l'alcesti di euripide non vince non risulta vittoriosa ma guadagna soltanto il secondo posto a partire da questo primo dato di inizio la figura di questa giovane donna viene poi ripresa rivisitata reinterpretata costantemente lungo tutto lo sviluppo della tradizione culturale filosofica letteraria dell'occidente proprio perché si tratta di una figura particolarmente ricca di significati e soprattutto ricca di problemi che tuttora interpellano l'intelligenza ma anche l'emotività la sensibilità dell'uomo contemporaneo il fatto che protagonista di una tragedia sia una figura femminile pone a mio giudizio un problema di ordine più generale al quale intenderei dedicare i primi dieci minuti della nostra conversazione perché non è solo al cesti donna ad essere protagonista e con un ruolo noi potremmo dire sbrigativamente eroico protagonista della tragedia di euripide perché protagoniste sono altre figure femminili pensate alla figura di antigone che ancora oggi è assunta come emblema della superiorità della legge morale rispetto alla legge morale rispetto alla legge positiva pensate alla figura di macaria la giovane giovanissima donna che è protagonista di un'altra tragedia di euripide cioè gli eraclidi e pensate alla complessità davvero tragica della figura di medea che certamente non può essere considerata una figura eroica nel senso tradizionale del termine eroismo ma che tuttavia giganteggia anche nel confronto con le figure maschili di contorno che compaiono nella tragedia euripidea intitolata appunto medea ebbene non so se abbiate già riflettuto autonomamente su questo aspetto ma il fatto che non poche tragedie o componimenti letterari di grande livello abbiano come protagoniste delle figure femminili pone un problema di fondo che tenterei almeno di impostare nelle sue grandi linee nei prossimi minuti e cioè come veniva concepita la donna nel mondo antico in maniera particolare nel mondo greco arcaico e classico quale ruolo veniva attribuito alla donna nel contesto di quella civiltà della quale noi siamo certamente eredi e di cui raccogliamo i messaggi più significativi ecco per cercare di comprendere attraverso un esempio particolarmente illuminante in che modo fosse considerata la donna nel mondo antico in particolare nel mondo greco possiamo riferirci a un passo di un testo che certamente tutti voi ricorderete perché lo abbiamo incontrato nei banchi di scuola e cioè l'Iliade di Omero è un passo che troviamo nel sesto libro dell'Iliade il contesto a cui appartiene questo brano è presto detto Patroclo l'amico inseparabile di Achille il compagno fidatissimo poiché ha indossato di nascosto dall'amico la sua armatura è stato scambiato per Achille dai troiani e in maniera particolare Ettore si è avventato contro di lui e lo ha ucciso Achille resta sconvolto dalla perdita dell'amico carissimo vince ogni riluttanza che lo aveva indotto se vi ricordate a restarsene chiuso nella sua tenda senza più partecipare ai combattimenti perché colpito dall'ira funesta nei confronti di Agamennone vince la sua ritrosia indossa l'armatura e sfida a duello Ettore Ettore dai merli della città di Troia accetta la sfida e sta per recarsi in campo aperto dove si scontrerà con Achille Poco prima che ciò accada si fa incontro a Ettore la moglie Andromaca che è accompagnata dalla nutrice che porta in braccio il piccolo Astianatte il bimbo di pochi mesi che è nato figlio della coppia e Andromaca si rivolge a Ettore con queste parole libro sesto versi 439 e seguenti Tu Ettore mi sei padre e madre e fratello e sei anche il mio giovane sposo Abbi pietà di me Resta qui sulla torre Non fare di tuo figlio un orfano Di me una vedova Ferma Ferma l'esercito vicino al fico selvatico dove è più facile attaccare la città Insomma la scena che ci è ben nota peraltro è delineata nei suoi caratteri fondamentali Quindi Andromaca è consapevole che se Ettore accetterà la sfida di Achille finirà per soccombere Fa un estremo ultimo tentativo per indurre il marito a rinunciare a questo scontro evitando di rendere la moglie vedova e il figlio orfano Bene A questa iniziativa di Andromaca risponde Ettore con parole recise e inequivocabili Ve ne faccio la parafrasi per questioni di rapidità Ettore si rivolge ad Andromaca e le dice Tu donna Torna a casa E torna alle opere tue Telaio e fuso E ordina alle ancelle Di sbrigare le faccende domestiche Alla guerra penseranno gli uomini e io per primo fra gli uomini E' un brano molto significativo per comprendere il problema intorno a cui stavamo riflettendo Cioè quale ruolo sia riconosciuto alla donna nel mondo greco antico Ed è tanto più significativo se teniamo presente che a differenza di ciò che accade abitualmente In questo caso un brano identico con le stesse parole ritroviamo anche nel contesto dell'Odissea In particolare mi riferisco a un passaggio del libro ventunesimo dell'Odissea In scena non c'è Ettore e Andromaca Vi sono invece Telemaco e sua madre Penelope Penelope ha appena affermato di voler assumere l'iniziativa Di consentire al mendico che è approdato alla reggia Di partecipare alla gara di tiro con l'arco Ma viene interrotta da Telemaco Dal figlio Telemaco Che con modi bruschi si rivolge alla madre e dice Tu donna torna a casa Torna alle opere tue Telaio e fuso E dà ordini all'ancella All'arco Alla gara dell'arco E alle attività militari Penserò io in quanto uomo Ecco Questi due episodi sostanzialmente identici Hanno la caratteristica di indicare Un rapporto tra uomo e donna Che resta sostanzialmente inalterato Sia che ad essere protagonisti Siano marito e moglie Sia che siano protagonisti Madre e figlio E il rapporto che viene delineato È estremamente limpido La donna ha un suo spazio Che è l'oikos La casa Anzi Come è noto per l'esattezza Non tutta la casa Ma quella parte limitata della casa Che era riservata alle donne Cioè il gineceo Lo spazio dell'uomo È il campo aperto Dove si svolgono le operazioni belliche E a partire dal campo aperto Del polemos della battaglia Vi sarà anche gradualmente La possibilità che L'uomo come cittadino libero E come combattente Possa diventare un soggetto attivo Della polis Cioè della città E della politica Che si sviluppa Anche dal punto di vista linguistico Nella polis Alla donna la casa All'uomo lo spazio aperto Del campo di battaglia E poi della polis Non solo Ma vi è un'altra sottolineatura Che deve essere fatta Alla donna viene riconosciuto L'ambito dell'affettività Degli emozioni Dei sentimenti Tanto quanto all'uomo È riconosciuto il logos E cioè l'argomentazione razionale Che non viene condizionata Dalla emotività femminile Questi due spazi Questi due spazi Sono nettamente distinti E prevedono quindi La segregazione Della donna In uno spazio diverso Da quello dell'uomo Rispetto al quale Ella deve condurre Una esistenza Totalmente privata Di ogni diritto civile E ogni diritto politico Introduco un inciso Che è certamente fuori copione Quando sentiamo la descrizione Della condizione di subalternità In cui la donna è tenuta Nel mondo antico greco-latino Possiamo pensare di scandalizzarci Sarebbe bene che non dimenticassimo Che nel nostro civilissimo paese Le donne hanno acquisito Il diritto di voto Nel 1946 Cioè l'altro ieri Sono passati due secoli e mezzo Dalla tragedia di Euripide Ma la condizione di subalternità Della donna È ancora oggi Uno dei problemi Che andrebbero affrontati In maniera radicale Ma torniamo alla nostra tragedia Come possiamo spiegare Questa apparente contraddizione Un mondo fortemente improntato Al maschilismo E alla discriminazione sessuale Nel quale però Vengono ad essere In qualche modo Descritte come personaggi eroici Proprio alcune figure femminili Devo dire che Nelle mie ricerche Ho provato più volte A trovare una risposta Che sia pienamente Soddisfacente A questo interrogativo Come si spiega Antigone Nel contesto Di una cultura Fortemente misogina Come è la cultura greca Classica E non sono riuscito Certamente anche per i miei limiti A trovare Una risposta Pienamente soddisfacente Che non fosse Che la forza Con la quale Si impongono Alcune figure femminili È tale Da Andare anche Al di là Di pregiudizi Quali Quelli Che sono A fondamento Di un'impostazione Misogina Dominante Nella società Greca Antica Ma Torniamo Ad Alcesti La tragedia È stata Rappresentata Vi dicevo Nel 438 Anticristo Per la prima volta Ma incontriamo Subito Uno degli aspetti Se non Inesplicabili Almeno In una certa Misura Paradossali Collegati A questa Tragedia Nel senso Che Dalle cronache Dell'epoca Apprendiamo Che la tragedia Veniva Rappresentata Come Quarta Nell'arco Della giornata Delle rappresentazioni Drammaturgiche Provo a spiegarmi Meglio Come Probabilmente Molti di voi Ricorderanno Lo svolgimento Lo svolgimento La rappresentazione Delle tragedie Nella Atene Classica Non corrisponde Affatto A un modello Moderno Qual è quello Che possiamo Immaginare Il pubblico Non andava A teatro Semplicemente La rappresentazione Delle tragedie Era parte Di una Liturgia In senso Stretto Del termine Di una Cerimonia Religiosa In onore Di Dioniso La cerimonia Aveva inizio Al mattino Con una Processione Che attraversava Le strade Della città Di Atene E si ingrossava Poco alla volta Mano a mano Che procedeva Verso La destinazione Finale Fino a che Si raggiungeva La sede Del teatro Si è stimato Che all'incirca A metà Del quinto secolo Avanti Cristo Quando quindi Viene rappresentata L'Alcesti All'incirca Ventimila Erano I cittadini Ateniesi Maschi Liberi Il che vuol dire Che almeno Il doppio 40.000 Dovevano Essere Gli schiavi All'incirca 25.000 Le donne E poi Un numero Imprecisato Di meteci Cioè Di stranieri Stabilmente Residenti Nella città Per un totale Di circa Centomila Abitanti Bene Pressoché Tutti i cittadini Maschi Liberi Partecipavano Alla cerimonia In onore Di Dioniso Che coinvolgeva Quindi Tutta la cittadinanza Nelle sue Espressioni Migliori Le rappresentazioni Prevedevano Il succedersi Di tre tragedie Una dietro L'altra A cominciare Dalla mattina Fino Al crepuscolo E La giornata Si concludeva Con la rappresentazione Di un dramma Satiresco O di un Di tirambo O talora Di una Commedia Comunque Di un Componimento Teatrale Leggero Talora Anche Divertente O comico Proprio Per evitare Che il pubblico Ritornasse Ciascuno Nelle sue Abitazioni Affranto Per il dolore A cui Aveva dovuto Assistere Seguendo Tre tragedie Bene Pur essendo Catalogata Come tragedia La Medea Quasi sempre Veniva Rappresentata Come Quarto Componimento Drammaturgico Al posto Dunque Del dramma Satiresco O della Commedia Questo perché Ed è Se volete Uno dei Non pochi Paradossi Che riguardano La identità Stessa Di questa Tragedia Questo perché A differenza Delle altre Tragedie Qui Assistiamo Ad un Finale Lieto Non ha Un Finale Tragico Aristotele Nella Poetica Ci Ricorda Che La Struttura Di una Tragedia Ben Costituita Consta Sostanzialmente Di due Parti Vi è Una Prima Parte Che Aristotele Definisce Desis E che Noi Possiamo Tradurre Col Termine Intreccio Trama Che Poi Dà Luogo Ad Una Lusis Cioè A Uno Scioglimento Degli Intreccio Nella Prima Parte Della Desis Si Intrecciano I Vari Avvenimenti Poi C'è Un Momento Di Passaggio Che Aristotele Chiama Metabolé Cioè Cambiamento Radicale Repentino Inatteso A seguito Del quale Cambiamento Inatteso Si va Allo Scioglimento Dei Nodi Tragici E Quindi Alla Conclusione Della Tragedia Perché Sia Ben Costituita Una Tragedia Deve Quindi Prevedere Tre Fasi La Fase Dell'intreccio Degli Avvenimenti Attraverso La Desis La Metabolé Cioè Il Punto Di Svolta Per Usare Un'espressione Inglese Potremmo Dire Un Turning Point In Greco Si Chiama Catastrofe Cioè Un Cambiamento Radicale E Poi Lo Scioglimento La Lusis Dell'intreccio Bene Dal Punto Di Vista Strutturale Anche L'Alcesti Corrisponde Allo Schema Aristotelico C'è Una Desis E Cioè Una Serie Di Avvenimenti Che Vengono Intrecciati Poi C'è Una Metabolé Un Cambiamento Improvviso E Imprevedibile E Poi C'è Lo Scioglimento Del Nodo La Differenza Rispetto Ad Alte Tragedie È Che Lo Scioglimento È Lieto E Non Doloroso O Infausto E Cioè Che Lo Scioglimento Consente Il Passaggio Dalla Infelicità Alla Felicità Mentre Abitualmente Nelle Tragedie Il Percorso È Rovescio Lo Scioglimento Conduce Dalla Felicità Del Protagonista Alla Massima Infelicità Proviamo A Vedere Riferendoci In Maniera Particolare Perché Poi Dovremmo Affrontare Problemi Di Particolare Impegno Proviamo A Vedere In che Modo È Annodato L'intreccio Nella Prima Parte Dell'Alcesti Di Euripide La Vicenda Ridotta Proprio A Uno Schema Perché Il Tempo Vedo Che Sta Correndo È Descrivibile Nei Seguenti Termini Admeto Il Principe Admeto È Sposato Con La Giovane Fanciulla Che Si Chiama Appunto Alcesti In Precedenza Admeto Aveva Offerto Ospitalità Ad Apollo Quando Il Dio Era Stato Costretto A Soggiornare Per Un Lungo Periodo Presso Gli Uomini Come Sanzione Voluta Da Zeus Per Il Comportamento Di Apollo Admeto In Quella Circostanza Aveva Aveva Accolto Con Molta Generosità E Disponibilità Apollo Il Quale In Cambio Aveva Attribuito Ad Admeto Un Privilegio Che Abitualmente Non Veniva Riservato Ad Alcun Mortale Quando Fosse Giunto Il Suo Momento L'ora Fatale Della Morte Admeto Aveva La Possibilità Di Sottrarsi Alla Morte Ove Avesse Trovato Qualcuno Disposto A Sostituirlo La Tragedia Comincia La Tragedia Di Euripide Con La Morte Che Fa Il Suo Ingresso In Scena Si Avvicina Ad Admeto E Gli Dice Devi Seguirmi E Giunta La Tua Ora Al Che Admeto Atterrito Da Questo Annuncio Devastante Cerca Affannosamente Di Trovare Qualcuno Che Possa Sostituirlo Nel Viaggio All'Ave Si Rivolge Anzitutto Ai Suoi Genitori Indicando Sia Alla Madre Che Al Padre L'opportunità Di Concludere Nel Modo Migliore Una Vita Che Oramai Volge Inesorabilmente Verso La Morte E In Altre Parole Admeto Dice Voi Siete Anziani Mi Avete Dato La Vita Concludete La Vostra Permanenza Sulla Terra Con Un Leggero Anticipo Consentendo A me Invece Di Continuare A Vivere Ma A Questa Richiesta Ferete Il Padre Di Admeto Risponde Rabbiosamente Accusando Il Giovane Admeto Di Essere Un Codardo E Di Non Avere Quindi La Forza Per Affrontare Il Suo Destino Allora Admeto Si Rivolge Al Suo Amico All' Amico Di Sempre A Creonte Col Quale Ha Trascorso Tante Serate In Cui I Due Hanno Manifestato L'uno Verso L'altro L'affetto Che Li Lega E Quante Volte Admeto È Riuscito A Ascoltare Dall'amico Creonte Una Frase Come Io Ti Sono Così Affezionato Che Darei La Mia Vita Per Te E Allora Admeto Pare Che Sia Giunto Il Momento Di Tradurre Praticamente Questa Affermazione Cerca Di Ritrovare Creonte Ma Creonte Se L'è Data Letteralmente A Gambe Perché Ha Capito Che Cosa Gli Sarebbe Stato Richiesto A A Quel Punto Ci Racconta Euripide La Giovane Giovanissima Alcesti Si Alza Si Avvicina Al suo Sposo E A Zanatos Alla Morte E Dice Vado Io Sostituisco Io Il mio Sposo Nel Viaggio Verso L'Ade Admetto Accetta La Sostituzione Alcesti Scortata Da Zanatos Viene Condotta Alle Porte Dell'Ade Sta Per Completare Questo Viaggio Con La Destinazione Dalla Quale Più Non È Possibile Ritornare Quando Sopraggiunge Eracle Che Intanto Era Stato Ospitato Da Admetto Nella Reggia E Per Corrispondere All'ospitalità Ricevuta Ha Avuto La Notizia Del Lutto Che Aveva Colpito Admetto Si Precipita Verso Le Porte Dell'Ade Ingaggia Un Duello Con Zanatos Riesce A Recuperare La Giovane Donna Alcesti E La Riconduce Dunque Presso Admetto La Riconduce Coperta Da Un Velo Perché Alcesti Vuole Verificare Che L'impegno Solenne Che Admetto Aveva Assunto Di Non Consentire A Nessuna Altra Donna L'accesso Nel Suo Talamo Nuziale Dopo La Morte Di Alcesti Questo Impegno Era Stato Rispettato Admetto Non Riconosce Perché Velata Alcesti Tra I Due Vi È Un Dialogo Mediato Da Eracle Fino A Che Alcesti Si Toglie Il Velo Ed È L'esito Lieto Della Vicenda Quali Sono Fra i Numerosi Punti Di Particolare Interesse E Spessore Problematico I Temi Fondamentali Di Questo Straordinario Capolavoro Euripideo Ma Anche Perché Sentiate In Qualche Modo Il Sapore Della Tragedia Euripidea Vi Leggo Quello Che A Mio Giudizio È Il Passaggio Cruciale Della Vicenda E Admetto Che Parla Dopo Che Alcesti Era Stata Avviata Agli Inferi In Compagnia Di Zanatos Admetto D'improvviso Rivolto Al coro Dice Io Credo Che La Sorte Della Mia Sposa Sia Migliore Della Mia Anche Se Non Sembra Nessun Dolore Potrà Più Toccarla Perché Con Un Gesto Glorioso Si È Liberata Da Ogni Pena E Invece Io Confesso Admetto Che Non Dovevo Vivere Oltre Il Mio Destino Io Avrò Un'esistenza Piena Di Dolore Attenzione Solo Adesso Lo Capisco Il Greco È Arti Manzano Finalmente Adesso Ho Capito Che Cosa Ha Capito Admetto Admetto Ha Capito Una Cosa Fondamentale Che Non È Vero Che La Vita Sia Sempre Comunque Meglio Della Morte Se La Vita Deve Comportare Un Dolore Una Sofferenza E Le Conseguenze Di Un Gesto Di Codardia Qual È Quello Che Ha Compiuto Admetto Admetto Ha Capito Paradossalmente Che Fra Lui E La Moglie La Scelta Migliore L'ha Fatta La Moglie Quella Di Immolarsi Piuttosto Che Sopravvivere Alla Morte Del Marito La Giovane Giovanissima Alcesti Personaggio Femminile Fa 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 Quindi Comparire In Una Luce Assolutamente Minoritaria La Presenza Di Admetto Alcesti Ha Capito Quello Che Admetto Capisce Quando Già Ormai Tutto Sembra Compiuto Quando Il Destino Di Alcesti Sembra Segnato Admetto Ha Capito Che Non È Vero Quello Che Tanto Spesso Si Ripete Che La Morte E L'opposto È Il Termine Correlativo Della Vita Perché Il Termine Correlativo Della Morte È La Nascita E Nascita E Morte Sono Entrambi Parte Della Vita E Che Non Sempre E Non Necessariamente Vivere O Sopravvivere È Meglio Che Morire Con Onore Con Gloria Rispettando Le Disposizioni Degli Dèi E Guadagnandosi La Stima Degli Uomini Solo Ora Ho Capito Dice Admetto Mentre Una Giovane Donna Apparentemente Fragile In Difesa Ha Capito Ben Prima Delle Esitazioni Di Admetto Ma Si potrebbe Anche Aggiungere Un Punto Che In Altra Sede Ho Cercato Di Sviluppare Ha Capito Admetto Tardi Quello Che Alcesti Intuisce Immediatamente E Ne Fa Quindi Seguire Un Comportamento Coerente Quello Di Dire Vado Io Perché È La Donna Capace Di Quella Logica Che Non È La Logica Dell'out Out La Logica Disgiuntiva La Logica Della Contrapposizione La Logica Femminile È Quella Che Tiene Insieme Aspetti Apparentemente Lontani È La Logica Dell'et Et La Logica Della Congiunzione Una Testimonianza Di Superiorità Della Maggiore Capacità Di Comprendere Fino In Fondo Non Solo Il Logos Non Solo Il Ragionamento Razionale Ma Anche La Dimensione Affettiva Sentimentale Dei Problemi Grande Personaggio Questo Di Alcesti Che Ha Continuato Per Secoli Ad Essere Reinterpretato Da Autori Come Villand Come La Margarita Jusenar Come Il Nostro Poeta Giovanni Raboni Ma Che Ha Colpito In Maniera Particolare Attraverso Una Vicenda Davvero Singolare E Per Alcuni Aspetti Perfino Inquietante Ha Colpito In Maniera Particolare Quello Che È Da Molti Considerato Il Più Importante Il Maggior Poeta Del Novecento E Cioè Il Boemo Di Lingua Tedesca Rainer Maria Rilke Alcuni Dati Informativi Sono Necessari Per Inquadrare Questa Straordinaria Lirica Di Rilke Che È Intitolata Appunto Alchestis Rilke Aveva La Consuetudine Di Compiere Molto Spesso Dei Viaggi Anche Particolarmente Lunghi E Amava In Maniera Particolare L'Italia Nella Quale Si È Recato Più Volte In Particolare A Roma Nel 1903 Egli Si Trova A Roma E Viene A Conoscenza Del Fatto Che In Una Importante Villa Romana Circondata Da Estesi Giardini Vi Era Una Esposizione Di Testimonianze Dell'arte Greca Antica Attraverso Sarcofagi Bassorilievi Statue Per i Quali Rilke Nutriva Un Particolare Interesse Ottiene Quindi Il Permesso Di Visitare La Villa Vi Dico Per Inciso Che Per Anch'io Ho Voluto Recarmi Presso Questa Villa Albani Ho Dovuto Superare Diverse Difficoltà Per Poter Essere Ammesso A Percorrere I Viali Che Circondano La Villa E La Villa Stessa Rilke Mentre Attraversa I Viali Di Questa Villa Viene Colpito Dal Basso Rilievo Che Ornava Come Fregio Un Sarcofago È Un Basso Rilievo In Cui È Ritratta Una Scena La Scena Del Commiato Di Alcesti Dal Marito Admeto E Dell'inizio Del Viaggio Verso L'Ade Scortata Da Zanatos Dalla Morte Alcesti È Al Centro Di Questa Rappresentazione Rilke Si Ferma Di Fronte A Questo Basso Rilievo E Resta Per Sua Esplicita Dichiarazione In Un Altro Contesto Scritto Letteralmente Impietrito Folgorato Da Questa Rappresentazione Se Ne Va Da Questa Visita Particolarmente Turbato Passano Quattro Anni E In Una Notte Tempestosa Che Egli Trascorre Quasi Interamente Insonne Mentre Si Trova A Capri Nel 1907 Scrive Questa Lirica Che È Intitolata Appunto Al Cestis Lascio Per Un Momento Sospeso L'interrogativo Che Cosa Ha Così Profondamente Turbato Rainer Maria Rilke Perché Egli Ha Avvertito L'urgenza L'esigenza Di Ritornare Su Quella Emozione E Di Tradurla In Una Lirica Che Cosa C'è In Quel Basso Rilievo Tale Da Suscitare Così Forte L'impressione Di Rilke Badate Siamo Alla Fine Ormai La Lirica Andre Beletta Per La Parte Centrale E Leggerò Alla Fine L'epilogo Di Questo Straordinario Componimento Poetico La Vicenda È Quella Che Conosciamo L'intreccio È Lo Stesso Intreccio Della Tragedia Vi È Solo La Differenza Dell'arrivo Di Thanatos Che Si Rivolge Ad Admeto Perché Lo Segua All'Ade Che Avviene Durante Il Banchetto Di Nozze Tra Admeto E Alcesti Ma Il Resto Della Vicenda È Lo Stesso A Parte Il Finale Il Finale Che Leggeremo Insieme Il Messaggero Fu Tra Loro All'improvviso Ospite Nuovo Nel Tumulto Della Festa Di Nozze Non Lo Sentirono Gli Altri Che Bevevano Al Banchetto Non Si Accorsero Del Dio Cioè Thanatos La Morte Che Entrava Silenzioso Come Umido Mantello Sembrò Nel Passare Uno Dei Tanti Ma Nel Brusio Delle Voci All'improvviso Uno Degli Ospiti Vide Lo Sposo A Capotavola Non Più Disteso Strappato Quasi Verso L'alto E Invaso Da Un'ombra Estranea Che Si Spiechiava In Lui E A Lui Paurosa Si Rivolgeva Capirono E Allora Fu Silenzio Subito Solo Qualche Rumore Strascicato A Terra Riconobbero Il Dio Cioè Appunto Thanatos La Morte Dalla Snella Figura Videro Come Stava Ritto E Inesorabile Così Compreso Nella Sua Missione E Furono Sul Punto Di Capire E Pure La Parola Quando Fu Detta Sembrò Al Di La Di Ogni Sapere Incomprensibile Admeto Deve Morire Quando Adesso E Nella Parte Centrale Della Lirica È Descritto Il Tentativo Di Admeto Di Convincere Thanatos A Lasciarli Ancora Alcuni Anni Un Anno Solo Un Mese Una Settimana Almeno Una Notte Ma Thanatos È Irremovibile La Missione Deve Essere Portata Immediatamente A Compimento Admeto Deve Seguire Subito Thanatos Verso L'Ade Admeto Cerca Di Rivolgersi Ai Genitori Invocando Che Essi Lo Sostituiscano Ma La Risposta Dei Genitori È Proprio Perché Ci Manca Pochissimo Da Vivere Vogliamo Godere Fino In Fondo Quel Poco Di Vita Che Ci Resta Allora Si Descrive La Vicenda Di Creonte Dell'amico Carissimo Che Aveva Detto Tante Volte Io Morirei Per Il Bene Che Ti Voglio Ma Amaramente Admetto Deve Prendere Atto Che Anche L'amico Suo Carissimo Lo Ha Abbandonato E Fuggito Per Sottrarsi A Questa Possibilità E Allora Ma L'amico Non C'era Più Era Scomparso Si Trasse Indietro E Allora Venne Lei Piccola Sembrava Più Piccola Che Al Loro Primo Incontro E Leggera E Triste Nella Bianca Veste Di Sposa Gli Altri Sono Per Lei Solo La Via Che Percorre E Viene Viene Tra Poco Sarà Nelle Sue Braccia Nelle Braccia Di Admetto Dolorosamente Spalancate Admetto Attende Lei Prende A Parlare Ma Non A Lui Lei Parla Al Dio Al Dio Che La Comprende E Tutti Sembra La Comprendono Nel Dio E Arriviamo Proprio Alla Fine Alcesti E Il Dio Zanatos Si Avviano Dunque Verso L'Ade Qui Evidentemente Sia Pure Troppo Tardi Admetto Capisce E Accade Ciò Che Quel Bassorilievo Con Tanta Efficacia Ha Rappresentato E Che Così Tanto Ha Turbato Rilke Sono Gli Ultimi Versi Della Lirica Dietro A Loro E Cioè A Zanatos E Ad Alcesti Che Stanno Avviandosi All'Ade Con Passo Malfermo Admetto Si Lanciò Le Mani Tese Ad Afferrarli Come In Sonno Ma Loro Erano Già Presso La Porta Dove Le Donne Si Affollavano Piangendo Una Una Volta Ancora E Gli Vide La Fanciulla Attenzione Il Viso Rivolto Indietro Il Suo Sorriso Chiaro Come Una Speranza Splendente Come Una Promessa Di Ritornare A Lui Dalla Profonda Morte Tornare A Lui Rimasto In Vita Cadde In Ginocchio Admetto E Si Coprì Il Volto Con Le Mani Per Non Vedere Più Che Quel Sorriso Ecco L'avrete Certamente Capito Ciò Che Così Profondamente Aveva Turbato L'animo Di Rilke Che Pure Era Profondo Conoscitore Della Letteratura Della Mitologia Greca E Aveva Avuto Quindi Più Volte L'occasione Di Riflettere Sulla Euripide Sulla Tragedia Di Euripide Sulla Alcesti Euripidea Ma È Rimasto Folgorato Letteralmente Dall'immagine Del Basso Rilievo Che Ritrae Alcesti Accompagnata Dalla Morte Che Va Verso L'Ade Si Volta E Sorride E Rilke Immortala Questo Passaggio Con Questi Tre Memorabili Versi Finali Cadde In Ginocchio Admetto E Si Coprì Il Volto Con Le Mani Per Non Vedere Più Che Quel Sorriso È Possibile Dunque Affrontare La Morte Con Un Sorriso Non È Vero Che La Morte È Sempre E Comunque In Qualunque Condizione Peggiore Della Vita È Possibile Che Quello Che Admetto Ha Capito Troppo Tardi Avesse Invece Capito La Giovane Donna La Donna Che Sa Combinare Il Logos Con Il Pathos La Razionalità Con Con Gli Affetti E Con I Sentimenti È Possibile Che Quindi Venga Accolto Grande Figura Questa Di Alcesti Sulla Quale La Riflessione Ritorna Frequentemente Proprio Per La Complessità Del Personaggio E La Ricchezza Dei Problemi A Cui Questa Figura Rimanda E Che Come Dicevo Interpellano Ancora Come Fosse Oggi L'immaginazione La Conoscenza L'intelligenza L'affettività Dell'uomo Contemporaneo Io Vi Ringrazio Della Pazienza Di Avermi Ascoltato Abbiamo Qualche Minuto Per Alcune Domande Ed Eventuali Mi Risposte Provo A Leggere Già Le Chat Che Sono Arrivate Non Sono Sicuro Di Riuscire A Leggerle Tutte Si Donatella Pagni Osserva Un'osservazione Appropriata Che Condivido Che Le Figure Eroiche Femminili Protagoniste Delle Delle Tragedie Non Incidevano Nella Quotidianità Della Vita E Nella Società Sembra Che Rimangano Chiuse Nel Mondo Poetico Certo È Proprio Così Ma Al Tempo Stesso È Una Questione Non Risolta Comprendere Come In Una Società Così Accentuatamente Maschilista Delle Figure Femminili Potessero Avere Un ruolo Così Emblematico Chiuso Nel Mondo Poetico Ma Con Una Forte Carica Di Suggestione E Di Indicazione Di Modelli C'è Poi Pier Tosi Che Dice Qualcosa Di Molto Lusinghiero Su Di Me Lascio Perdere Di Cui Condivido Di Condivide La Mia Passione Per La Cultura Greca E Per Marx Colpisce La Dichiarazione Di Ferete Cioè Del Padre Di Admeto Del Pieno Valore Della Vita Nella Vecchiaia In Apparente Contrasto Con La Cultura Del Tempo E Con Quanto Affermato Dallo Stesso Euripide Nel Coro Dell'Era Cle È Una Posizione Centrica O Dialettica No Io Credo Che Sia Una Rappresentazione Di Quello Che Può Essere Considerato Uno Stereotipo E Cioè Il Fatto Che La Vita È La Cosa Comunque Sempre Più Importante Da Anteporre A Qualunque Altra Cosa Da Custodire A Qualunque Condizione Ma Siamo Davvero Convinti Che Sia Così Io Tante Volte Quando Mi È Accaduto Di Discutere Temi Di Questa Natura Anche Per La Scrittura Di Questo Mio Libro Sul Tema Della Morte Mi Sono Chiesto Ma Ad Esempio Tra I Molti Che Se Ne Potrebbero Fare Coloro Che Possono Essere A Buon Diritto Considerati I Padri Della Nostra Repubblica Della Nostra Democrazia Coloro Che Sacrificando La Loro Vita Hanno Consentito La Fuoriuscita Da Un Regime Dispotico E Hanno Evitato Il Dilagare Delle Forme Autoritarie Di Governo Coloro Che Sono Caduti Durante La Resistenza Hanno Anteposto I Valori In Cui Credevano Alla Tutela Semplice Della Loro Vita Ma Con Minore Dose E Qualità Di Eroismo Non Saremmo Anche Noi Capaci Per Ossequio Ad Alcuni Valori O Per La Tutela Delle Incolumità Di Persone Che Ci Sono Care Di Anteporre Questo Anche Alla Nostra Vita Non Credo Che Sia Facile Dare Una Risposta Ma Il Problema Si pone Ed È Un Problema Che Admetto Prima Della Folgorazione Arti Manzano Finalmente Ho Capito È Un Problema Che Admetto Non Si pone Ma Lui Sembra Immediato Rettilineo Lineare C'è La Prospettiva Della Morte Posso Farmi Sostituire Mi Sostituisce La Mia Giovane Moglie Va Benissimo Va Benissimo Come Si Può Capire Admetto Sfugge Una Complessità Che Invece È Ben Presente Ad Una Giovane Donna Di Nome Alcesti Altro Intervento Quello Di Sergio Cottafava Che Dice Mi Sembra Che I Temi Profondi Dei Rapporti Tra Le Persone Così Efficacemente Evidenziati 2500 Anni Fa Non Siano Ancora Patrimonio Acquisito Nella Normalità Quotidiana C'è Una Risposta A Questo Sbaglio La Valutazione No Credo Che Proprio Nell'Alcesti Uno Dei Filoni Tematici Che Percorrono Questa Tragedia E Sui Quali Non Vi È Stata La Possibilità Il Tempo Di Soffermarsi Vi È Anche Il Valore Di Quello Che I Greci Chiamavano Xenia E Cioè L'accoglienza Dello Straniero Non Dimentichiamoci Che Ad Admeto Apollo Attribuisce Il Privilegio Di Potersi Far Sostituire Nel Viaggio All'Ade Perché Admeto Lo Ha Accolto Lo Ha Ospitato Pur Essendo Apollo Uno Straniero Ma C'è Di Più Eracle Strappa Alcesti Al Destino Della Morte Per Corrispondere All'ospitalità Che Admeto Gli Ha Riservato La Xenia Era In Tutto Il Mondo Greco Ed È Stata Per Oltre Un Millennio Un Complesso Di Regole Inviolabili Che Facevano Sì Che Lo Straniero Doveva Essere Sempre E Comunque Accolto Ecco Anche Su Questo Ho Lavorato Molto Non Intendo Tediarvi C'è Un Testo Mio Che Si Intitola Straniero Dove Vado A Fondo Di Queste Tradizioni Di Questa Cultura Cercando Di Rispondere Fra L'altro All'interrogativo Ma Cosa È Accaduto Nel Passaggio Dalle Civilissime Regole Dell'accoglienza Del Mondo Antico Alle Feroci Espressioni Dei Rispingimenti Nel Mondo Attuale Lorenza Cardinali Dice Grazie Della Interessantissima Lezione Che Si Possa Serenamente Accogliere La Morte Con Un Sorriso Dopo La Vita È Un Concetto Direi Molto Della Cultura Filosofia Orientale Deriva Dal Concetto Dell' Impermanenza Di Cui È Permeata La Cultura Orientale Io Conosco Un Po Almeno Mi Sforzo Di Conoscere C'è Un Bellissimo Frammento Di Pindaro A cui Io Sono Molto Legato Che Dice Gerasco Caia E Pollà Manzano Invecchio E Ogni Giorno Qualcosa Di Nuovo Imparo Ecco È Un Frammento Che In Parte Descrive Anche Il Mio Rapporto Col Mondo Classico Che Trovo Di Inesauribile Ricchezza Inesauribile Ogni Volta Che Si Affonda Si Trova Una Profondità Maggiore Di Quanto Ci Si Potesse Aspettare Ma Mentre Cerco Appunto Di Andare A Fondo Per Quanto Riesco Della Cultura Classica Non Ho Minimamente Alcuna Competenza Per Quanto Riguardo La Cultura Orientale È Uno Dei Tanti Limiti Marco In certi Zambelli Dice Ci Può Essere Una Suggestione Dell'Alcesti Nel Settimo Sigillo Di Bergman Sì Certamente Certamente Anche Quella Può Essere Considerata Quella Di Bergman Un Importante Meditatio Mortis Così Come Una Meditatio Mortis Sia La Versione Euripidea Che Quella Rilchiana Del Mito Di Alcesti Luciana Bonilauri Dice Il Dono Di Apollo È Per Lo Meno Ambiguo Anzi Pare Una Prova A Cui Viene Sottoposto Alcesti Evidentemente Luciana Intendeva Dire Admeto Prova Che Non Supera Certamente Viene Fuori La Dico Volgarmente Mi Scuso La Stoffa Dell'uomo Del Personaggio Pavido Codardo E Soprattutto Incapace Di Capire Tempestivamente Arti Manzano Capisce Quando Alcesti È Già All'Ade Tutt'altra Personalità Quella Di Alcesti Che Risalta In Maniera Particolare Proprio Nel Confronto Col Marito Valeria Manini Dice La Donna È Logos Hepatos Nel Privato Nel Pubblico Non Riflette La Condizione Della Società Patriarcale Neolitica Basata Sull' Economia Grazie Per la Sua Lezione È Uno Spunto Interessante Non Si Può Esaurire Una Questione Di Questa Portata In Poche Battute Io Proverei A Concentrarmi Su Ciò Che Emerge Dal Testo Di Euripide E Da Quello Di Rilke E Almeno A me Risulti Non Ci Sono Più Interventi Vi È Stato Già Annunciato Da Susi Davoli Che Vi Funesterò Ancora La Prossima Primavera Con Una Serie Di Incontri Sui Miti D'amore Ci Auguriamo Tutti E Devo Dire Io Con Particolare Slancio Che Ci Si 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 Possa Trovare In Presenza Perché Questa Modalità Di Comunicazione Alla Quale Ci Siamo Ridotti Cancella Ciò Che Della Comunicazione È Fondamentale Cioè Il Contatto Umano Tra Le Persone Che Comunicano È Un Rimedio Come Ogni Rimedio Insufficiente Inadeguato Speriamo Vivamente Che Oltre Che Insufficiente Inadeguato Sia Anche Temporaneo Intanto Faccio I miei Auguri A Tutti Per Le Prossime Festività Ringrazio E Mi Complimento Per La Bella Iniziativa Saluto Credo Che Compaia Susi Devo Ringraziare Il Professore Ancora Una Volta Lo Aspettiamo L'aspettiamo Veramente Con Con Ansia In Primavera Devo Dire Che Nonostante Questa Modalità È Riuscito Lo Stesso A Far Passare Delle Belle Emozioni Oltre A Che Ad Importanti Riflessioni Grazie Ancora Davvero E Auguri Anche A Lei E A Tutti Quelli Che Ci Hanno Seguito In Questo Momento Grazie Mille